Confermata in appello la condanna per estorsione aggravata all'ex capitano rosa nero Fabrizio Miccoli, questa la decisione nei confronti del calciatore al quale, come al termine del processo di primo grado, è stata inflitta una pena di tre anni e sei mesi. Confermata la tesi dell'accusa, secondo la quale lo sportivo avrebbe chiesto a Mauro Lauricella, figlio del boss della calza Antonino, di recuperare un credito che avrebbe vantato nei confronti dell'imprenditore Andrea Graffagnini, relativo alla cessione della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. Per la procura Lauricella si era dato da fare, con metodi violenti per far riottenere 12.000 euro all'ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini, con il quale Miccoli condivideva la gestione della discoteca. A seguito delle indagini della DIA, il procuratore aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, ma il giudice Fernando Sestito aveva disposto l'imputazione coatta e quindi il rinvio a giudizio. Hanno sempre respinto ogni genere di accuse legali del Romario del Salento, che ha sostenuto più volte in aula di non conoscere le origini dell'amico Lauricella, arrestato ad aprile del 2015. Lauricella, per la stessa vicenda, era stato condannato in primo grado a un anno per violenza privata, ma in appello è stato contestato il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, che è costato al figlio del boss della calza una pena di sette anni. Mi divertivo con lui, ma non sapevo fosse il figlio di un mafioso, diceva Miccoli, comunque una persona alla quale voglio bene. Mi è venuto spontaneo parlarne con Mauro, non sapevo di cosa si trattasse e mi sono poi disinteressato.